Simone Giannelli, 3 a 0 alla Finlandia, si va ai quarti di finale, soprattutto una prova convincente dopo il capo a domenica con la Francia. Sì, è stata una prova convincente e soprattutto l'importante risultato. Siamo nei quarti contro la Russia, una squadra molto forte, adesso penseremo questo giorno a studiarla e fare del nostro meglio domani. Guardandoti dalla tribuna, la sensazione è che partita dopo partita questo giovane ragazzo migliora sempre. Che giudizio dai della tua prestazione? Ma sinceramente oggi non mi sembra di aver giocato così bene, però sono contento, se mi dici così sono contento, però l'importante è come dico sempre la vittoria di gruppo e come gioca la squadra in generale, quindi siamo mutati l'uno con l'altro in anche momenti di difficoltà oggi e sono contento. Abbiamo vinto, adesso testa alla Russia. Tra l'altro un clima particolare in tribuna perché c'erano quasi più finlandesi che italiani, però insomma questo non vi ha influenzato più di tanto. Sì, c'erano tantissimi finlandesi, però no, anzi è stato bellissimo, secondo me è stato divertente, bella, l'atmosfera era bella, c'era molto casino, però è stato divertente. Dicevi della Russia, domani il quarto di finale contro i russi, sgambettarli di nuovo come in Giappone? Eh sì, magari, è una squadra un po' diversa, secondo me hanno trovato loro equilibrio, sono una squadra molto forte, però noi faremo del nostro meglio per portare a casa risultato e per andare a soffio.